Grazie Presidente, ne abbiamo già parlato ampiamente quindi cercherò di essere più breve possibile perché siamo anche a fine serata. 100 miliardi, questa è la cifra che ha stanziato il governo francese, caro Presidente, per le infrastrutture su ferro a Parigi. La maggior parte di queste sono tram, ripeto, 100 miliardi. Ora noi abbiamo fatto un lavoro, la costruzione di un piano, così come la normativa dispone, con la partecipazione della cittadinanza. A marzo questo piano è arrivato in Campidoglio, è stato approvato in giunta con una proposta tecnica, una proposta che era inficiata però da tutta una serie di strumenti equivalenti che provenivano dal passato, il piano strategico della mobilità sostenibile nel 2010, che come ho detto nell'intervento precedente aveva fondamentalmente cassato la maggior parte degli interventi su ferro per dare ampio spazio a una rete infrastrutturale su gomma. Una scelta quindi che riconvertiva tutto il lavoro che era stato fatto dalle giunte precedenti, il lavoro comunque anche in quei casi la maggior parte delle opere annunciato, ma che poi si era infilato nell'unica grande opera appunto era la metro C e poi come sapete i 450 metri di tram per l'estensione da Largo Argentina a Piazza Venezia. Ora, è chiaro che quella proposta tecnica era, come dire, bloccata dagli strumenti precedenti, come appunto il piano del 2010, come sapete i tecnici non possono da soli operare cambiamenti, stravolgimenti di pianificazione così importanti se non hanno ovviamente un indirizzo da parte della politica chiaro. L'indirizzo noi l'abbiamo cercato attraverso la partecipazione, abbiamo fatto esprimere i cittadini, ci è stato detto ultimamente che nella seconda fase partecipativa nei municipi hanno partecipato tipo 500 persone, 500 persone, io vorrei dirlo, sono i terminali, i comitati territoriali, di associazioni, non solo culturali, di associazioni che da decenni si occupano della mobilità sostenibile a Roma, quindi non sono 500 persone, io non so dietro quante persone ci sono, so che i blog sono seguitissimi, so che ogni cittadino romano vorrebbe buttarla l'automobile privata perché non ne vuole più di stare incastrato ore e ore nel traffico. Lo ripeto, Parigi ha investito 100 miliardi sulla mobilità sostenibile, il governo francese, non stiamo parlando di una città che non ha una rete sul ferro. Noi al primo punto abbiamo detto che prendiamo quello che è l'esito della partecipazione del popolo e quindi rimettiamo dentro tutte le metro, il prolungamento della metro A e lo voglio specificare perché in questi giorni è stato oggetto di ampia e ridicola trasformazione della notizia da parte di certa stampa. Il tram arriverà a Torrevecchia come era nel PRG, due fermate a Torrevecchia, una prima dopo Battistini-Bembo e l'ultima a incrociare la linea FL3 a Montemario, parlo della linea A, la metro A. La B1 arriverà al Gra e arriverà al Gra tramite una direttrice che andrà a caricare tutti i cittadini già insediati, parlo del Colle Salario, parlo di tutti i quartieri che anche lì da anni aspettano una infrastruttura decente, abbiamo mantenuto l'idea del People Mover che sempre da Ionio arriva a Porta di Roma, la metro C con coraggio, abbiamo detto andiamo a Farnesina, non ci fermiamo a Clodio, secondo le deludenti riduzioni del 2014. Nel 2014, come sapete, la metro C fu violentata, furono tolte le fermate nel centro storico, nel Lanza Barocca. Io non ho parole, non voglio, ripeto, fare polemica, stiamo dicendo che noi abbiamo fatto un passaggio che è durato circa due anni, secondo la normativa vigente, per cui oggi noi abbiamo lo strumento che consentirà la nostra amministrazione andare a richiedere di realizzare in dieci anni, nello scenario di piano attuativo, nei prossimi dieci anni, quanto la città attende da settant'anni. Uno sforzo incredibile, è qui che arriva il secondo punto della mozione. Chiediamo alla nostra sindaca, soprattutto, ma anche a tutta la Giunta, ai nostri tecnici, a tutti quanti, coloro che si occupano di mobilità a Roma da decenni, di spingere per tifare, per la creazione di una cabina di regia al Ministero, che coinvolga anche la Regione, per risolvere anche l'altro dramma, tra virgolette, della mobilità romana, delle ferrovie concesse, che, come sapete, dal primo luglio sono state praticamente deglassate ancora di più, perché dopo l'incidente che ci fu giù in Puglia, il Ministero ha aumentato i criteri di sicurezza, e quindi adesso questi treni, diciamo, in queste ferrovie, che si chiamano ancora ferrovie, viaggiano a delle velocità ancora più ridotte, per poter, ovviamente, evitare disastri. Sono ferrovie che attendono anche questi investimenti importanti da parte di chi ne ha la proprietà della Regione Tanni. Noi non vogliamo anche qui entrare in polemica, vogliamo portare tutto in un tavolo che sia veramente e una volta per tutte risolutivo per la mobilità romana, e lo vogliamo che sia partecipato da tutte le istituzioni. È chiaro che quel tavolo dovrà prendersi, assumersi il carico di andare a capire le risorse disponibili che esistono in questo Paese, per poter fare in modo che a livello procedurale, quantomeno, ci siano delle accelerazioni per poter cominciare a partire su tutte le attività, per poter veramente garantire in dieci anni un cambiamento epocale. Perché ieri in Commissione facevamo, vi do questo elemento ultimo, non voglio insistere più di tanto perché siamo tutti stanchi, facciamo un po' di misurazioni. Per ogni miliardo di opere come queste è computato che più o meno vengono spesi, cioè 40 milioni finiscono per pagare tutte le persone che si occupano a vario titolo della realizzazione. Considerando un costo medio di 100 mila euro all'anno di ogni funzionario, di ogni dirigente, di ogni specialista, ogni ingegnere che si occupa di queste opere, è ovvio che parliamo di qualcosa che per ogni miliardo ci sono 400 operatori. È chiaro che molti di questi stanno all'interno degli esiti di elevare carri d'appalto, ma altre tanti, e non sono pochi, per ogni miliardo devono essere disponibili per gestire gli aspetti procedurali e tecnici. La verifica da parte del pubblico di ogni disegno strutturale, perché non è possibile, noi arriviamo a fare come la Metro Cicca e ci sono stati presentati dei progetti per cattedrali di cemento nel deserto che hanno fatto lievitare i costi all'infinito. Questo non deve succedere. Quindi servono ingegneri con una certa capacità. È normale che se parliamo di questi numeri per ogni miliardo, moltiplicato per qualcosa come una decina, quindicina di miliardi, quanto Cuba, tutto quanto il Pums, che servono delle risorse, dei profili tecnici di una certa quantità. E questo può essere deciso soltanto in un tavolo veramente interessato a fare in modo che la capitale realizzi quanto attende da decenni. Grazie.